Buongiorno a tutti e benvenuti su Atilab. Ho qui a fianco la mia mega batteria e stazione di alimentazione portatile che ho autocostruito e che ho potenziato con ben 4 batterie da 12.8V 100Ah e quindi un accumulo di energia totale di oltre 5kWh. Ho fatto moltissime lavorazioni e modifiche alla batteria originale che montava solo due batterie e questo per poter aggiungerne altre due in parallelo. Inoltre ho seguito anche i vostri consigli per poter migliorare l'efficienza di questo sistema. E come ultima chicca ho fatto anche delle prove con strumenti da banco come il carico elettronico attivo. La primissima cosa è andare a montare a questa mega batteria delle ruote perché è veramente troppo pesante. Le ruote sono di un vecchio tosaerba. Le ruote di riciclo le vado a montare direttamente con l'asse nel telaio del server che è di acciaio e che devo forare. Foratura e taglio con Dremel vicino alle batterie? Fatto! E l'asse delle ruote si infila perfettamente. E per questo progetto è arrivato qualcosa anche da JLCPCB però non è un circuito stampato ma è qualcosa di molto meglio contenuto in questo imballo tutto rosso. Ve lo apro subito. Ed eccolo qua guardate che spettacolo! Praticamente un pannellino che ho fatto tagliare con la CNC è veramente veramente spettacolare. Le misure quindi dovrebbero essere precisissime. Adesso non mi rimane che montare il tutto su questo pannello ma guardate che spettacolo! Con tanto di marcatura delle varie scritte come ATLAB, Power Supply e molto altro e qui mi sono fatto anche fare le prese per la ventilazione. Veramente uno spettacolo! Son qua gasatissimo ragazzi! Tramite il servizio manufatturiero si possono far realizzare oggetti di qualsiasi natura con fresatura CNC di metallo o stampa 3d in vari materiali a costi molto ridotti e perfetti anche per i propri prototipi rapidi. Grazie alla chat e all'assistenza ho risolto rapidamente anche i problemi legati al mio disegno e il tutto è stato confermato con un visualizzatore online. Passate dal link in descrizione per ricevere un esclusivo codice sconto e per sostenere ATLAB! Smonto subito il primo pannello che avevo costruito per montare quello super figo in alluminio. Devo adattare alcuni elementi del telaio ma come vedete i fori coincidono perfettamente. A me non rimane che fare i pochi ultimi fori e qualche taglio per poi rimontare il tutto. Per montare il nuovo pannello in alluminio ho dovuto smontare tutto quello vecchio, infatti vedete qua tutti i fili volanti, e ristamparmi alcuni pezzi con la nuova MK4. Quindi procedo rimontando le varie parti sul telaio e sul pannello, come il piccolo alimentatore regolabile con display 7 segmenti che si fissa grazie ad un elemento stampato in 3d. completo l'opera con i due display misuratori di tensione e corrente relativi al carico e alla ricarica con pannelli fotovoltaici. L'intero pannello va al suo posto alla perfezione. Monto anche gli ultimi elementi come il selettore del sezionatore e il gioco è fatto. Vi garantisco che visto dal vivo questo pannello fa un effetto veramente assurdo ed ha quel tocco di stile che veramente è spettacolare. Ho rimontato tutto come era prima con l'aggiunta del pannellino in alluminio e adesso devo vedere se i collegamenti che ho fatto funzionano. Ottimo, molto molto bene. L'uscita, il display di indicazione dell'uscita funziona. Posso attivare l'uscita regolabile che funziona altrettanto bene. Mi rimane da provare l'inverter qua sotto. L'inverter ha suonato. Tra un po' si dovrebbe accendere. Perfetto, si accende anche quel display lì e quindi ci siamo. Perfetto. Mi rimane da collegare quindi il sistema di ricarica delle batterie. Per la ricarica delle batterie uso un regolatore di carica dedicato che devo cablare. Da un lato all'ingresso con uno shunt per misurare la corrente fino a 20 ampere e sull'uscita andrà poi a collegarsi alle batterie dal lato dei fusibili. Ho collegato e montato qui sotto il regolatore di carica con il relativo shunt in modo tale da misurare anche quanta corrente prelevo dai pannelli fotovoltaici per caricare le batterie e come vedete qui sopra ci sono anche i fusibili che non vi avevo fatto vedere la volta precedente ma che in realtà erano montati. Un fusibile riguarda proprio l'uscita xt90 e il pannellino qua frontale con il regolatore di tensione. Chiusi i fusibili è il momento di provare a caricare il tutto direttamente con i pannelli fotovoltaici che ho sul balcone e ci sono arrivato solo grazie alle ruote visto il peso. Ho appena collegato la mega batteria al pannello fotovoltaico qua sul poggiolo in modo tale che si carichi attraverso il regolatore di carica MPPT che c'è qui dentro e tutto sta funzionando alla grandissima. Vedete la luce lampeggia appunto in ricarica, le batterie si stanno caricando e il pannellino davanti mi segnava circa 250 watt. Per aumentare la capacità di accumulo della mia super stazione di alimentazione ho preso altre due batterie di time usb da 12.8 volt e 100 ampere ora. Le batterie extra le collego in parallelo a quelle già montate dentro al telaio del server. Piccola spiegazione, nel telaio del server ci sono due batterie in serie con tensione nominale di 25,6 volt e 100 ampere ora. La stessa cosa va fatta con le batterie extra che devo mettere prima in serie per arrivare a 25,6 volt nominali e poi in parallelo alle altre due. E' arrivato un po' di materiale anche da RS e visto il progetto, le correnti in gioco, ho preferito prendere componenti di qualità come ad esempio i fusibili da 100 ampere. Qui ci sono invece i connettoracci per poter estendere la batteria. Dovrebbero essere connettori da 200 ampere 1500 volt della Anphenol quindi sono veramente delle bestie. Visto che le batterie sono collegate all'esterno con dei cavi aggiuntivi è d'obbligo aggiungere dei fusibili che devono essere da ben 100 ampere. Per andare a montare il fusibile devo andare a scollegare tutto il sistema dello shunt e come vedete ho già rimosso il nastro isolante come avevate suggerito voi nei commenti per poter andare poi a fissare direttamente qua sotto un elemento stampato in 3d che tenga lo shunt in posizione e non lo vada a farla toccare contro il telaio. Lo sta stampando la piccola prusa mk4 nuova arrivata nell'armadio delle stampanti 3d. Mentre la stampante completa la sua opera a gran velocità smonto il collegamento che avevo realizzato con un blocchetto di rame. Stampa finita non mi aspettavo che questa piccolina andasse così veloce e così bene e adesso non mi resta che staccare i pezzi dal piano che giustamente è un piano in pay per cui praticamente è impossibile rimuovere il materiale però per fortuna è magnetico quindi si può staccare tutto. Vediamo ola ed eccoli qua pronti e finiti. Rimonto l'accrocchio questa volta includendo il fusibile collegato alla batteria e il supporto per lo shunter ma monto anche il secondo fusibile che andrà verso le batterie esterne. Non vi preoccupate ho messo tutto lo schema del progetto a fine video così lo potete osservare con comodo. Con un altro elemento stampato in 3d creo un supporto per i due connettori esterni da 200 ampere e mi metto a preparare i vari cavi necessari al collegamento di potenza. Quindi lì ci sono i due connettori che andranno alla batteria esterna e qui ho dovuto modificare leggermente il sistema dei fusibili con lo shunt in modo da poter effettuare il collegamento ai connettori della seconda batteria. E la perla sono i connettori sul cavo che sono veramente giganteschi e non facili da crimpare. Uno per il terminale positivo rosso e uno per il terminale negativo nero. C'è da precisare che in questo caso le batterie aggiuntive sono solo per aumentare l'energia accumulata cioè i kWh ma non per aumentare la potenza. Il collegamento così non sarebbe assolutamente adatto. Ho caricato il pacco batterie con il pannello fotovoltaico e adesso vado a verificare a che tensione si è portato. Una tensione che risulta essere di 26,15 volt che coincide con le due batterie e il pacco batterie che ho in garage. Faccio un controllo della tensione dei due pacchi batterie che si discosta di appena 30 millivolt quindi collego il negativo. Ho ricontrollato per l'ultima volta la tensione dei due pacchi batteria che sono fuori di appena 30 millivolt quindi è il momento della verità. Sto veramente tremando perché ho paura a collegare questo polo e nel caso cui avessi sbagliato qualcosa vedrò fuoco e fiamme. Ho comunque qui la pinza amperometrica per tenere sotto controllo la corrente che scorre tra le due batterie. In questo momento l'inverter e il carico è tutto completamente scollegato e quindi momento della verità. Facendo due conti con appena 30 millivolt di differenza tra i due pacchi batteria e una resistenza interna delle batterie di qualche decina di milliohm la corrente dovrebbe essere di appena 1 ampere. E guardate la corrente è di appena 700 milliampere quindi si confermano i conti che ho fatto non erano troppo fuori. Vedete poi la corrente che cala pian piano col tempo ed è perfetto perché vuol dire che le due batterie si stanno equalizzando molto molto lentamente e sicuramente sotto la corrente di tail che era di appena 2 ampere. E con entrambe le batterie collegate ho acceso anche l'interruttore principale. Come vedete qui abbiamo 26,2 volt perfetto. Ho acceso anche l'inverter e mi è comparsa una tensione sull'uscita di 123 volt. Io volevo utilizzare l'inverter per poter prelevare un qualcosa come 1 o 2 kilowatt di potenza dalle batterie ma mi segna 123 volt. Probabilmente questo inverter qui dentro deve essersi danneggiato non so che cosa abbia combinato e invece di tirarmi fuori 220 volt come c'è scritto qui me ne tira fuori solo 120. Quindi ho dovuto cambiare idea per poter collaudare queste batterie e utilizzerò il carico elettronico attivo. Imposto il carico attivo alla massima portata in potenza che con 26 volt e 11 ampere si sfiorano i 300 watt. Anche se la corrente è bassa si dovrebbero notare subito possibili squilibri tra i due pacchi batterie. Dalle batterie sto prelevando una corrente di 11.1 ampere anche lo strumentino qua segna una corrente di 19. Adesso però con la pinza amperometrica voglio andare a vedere qual è la corrente che sta uscendo dai due pacchi batterie per verificare se ci sono squilibri. Qui ho una corrente di 5.13 ampere e vediamo qui una corrente di 5.70. Quindi addirittura il secondo pacco batterie cioè quello esterno nonostante abbia i cavi leggermente più lunghi riesce a fornire una corrente leggermente maggiore e questo in realtà mi sorprende perché pensavo che avendo aumentato la resistenza tra cavi e collegamenti con morsetti qua dietro la corrente sarebbe stata più bassa. Purtroppo non riesco a fare una prova veramente di potenza quindi tirando fuori 1-2 kilowatt sfruttando appieno l'inverter perché appunto mi segna 120 volt che non capisco come sia possibile e mi devo limitare a questa prova qua ma che già dà un ottimo risultato nel senso che comunque lo sbilanciamento di corrente è veramente irrisorio. Fatta anche quest'ultima prova il mio nuovo sistema di alimentazione è completo con tanto di estensione con doppia batteria per un totale di oltre 5 kilowattora di accumulo. Inverter a parte che vedrò di riparare o sostituire tutto il sistema funziona alla grande sia con ricarica solare che con uscite regolabili e la presa usb per la ricarica rapida. Il pannello frontale è uscito stupendo e sono veramente soddisfatto del risultato. Prima di concludere il video ci tengo moltissimo a ringraziarvi per il sostegno e per i commenti positivi che mi hanno spinto a fare una seconda versione di questo super progetto. Per continuare a sostenere ATLAB vi invito a visitare la pagina Patreon e le pagine social dove potrete trovare moltissimi aggiornamenti riguardanti il mio piccolo laboratorio. Ci sono i link qui sotto in descrizione. Io vi lascio lo schema completo del circuito e sono a disposizione per consigli sui social o qui sotto nei commenti. Intanto un saluto, ciao!